In apertura le notizie più importanti del nostro telegiornale. E' tutto pronto per lo screening di Massa Fano in altri quattro comuni della provincia. Al via domani tamponi gratuiti e volontari per tracciare i positivi asintomatici. Ecco il centro di smistamento dei vaccini della provincia pesarese. Fano TV all'interno del punto di stoccaggio a Fossombrone con il farmacista responsabile Celestino Bufarini. Intanto la regione chiede al governo di vaccinare studenti e insegnanti. Protesta pacifica di albergatori e ristoratori davanti al comune di Pesaro. Matteo Ricci si faccia portavoce della situazione drammatica che stiamo vivendo. Attività economiche in crisi. Il comune di Fano stanzia un fondo bonus di 1000 euro a chi ha subito un calo di fatturato di almeno l'80%. Dal centro storico al porto a lungomare Fano lancia l'operazione Waterfront Aperto il concorso internazionale di idee per riqualificare la città. Dopo gli insulti su Facebook l'assessore Enzo Belloni usa l'assegno del risarcimento per acquistare una girella a una bimba disabile. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con lo screening di massa che domani prende il via a Fano e anche in altri quattro comuni della provincia. Nel servizio di Filippo Pucci facciamo il punto sui luoghi e sugli orari. Domani 8 gennaio si parte con i tamponi rapidi per il coronavirus. Dopo le città capoluogo inizia lo screening di massa anti-covid per i cittadini di Fano, Mondolfo, Cartoceto, Monbaroccio e San Costanzo. Dall'8 al 13 gennaio tutti coloro che vorranno sottoporsi al test antigenico potranno farlo in modo sicuro e gratuito. Dalle 8 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 19 ci si potrà recare indistintamente in uno dei quattro punti allestiti dall'area vasta. Al Codma di Rosciano in via Tommaso Campanella, alla palestra Venturini di via San Paterniano a Fano oppure al bocciodromo comunale di Marotta in via L'Europa e nel ristorante La Tagliata di via Monbaroccese. In quest'ultimo caso l'obiettivo è quello di favorire gli abitanti di Monbaroccio e Cartoceto ma sarà aperto per il test soltanto nelle giornate di lunedì e martedì. Non serve l'appuntamento ma è consigliata la stampa del modulo già compilato che si può trovare nelle farmacie, nel sito del comune di Fano e in quello dell'Asur. Il modulo verrà distribuito anche all'esterno delle strutture dai volontari della protezione civile e della Croce Rossa. Non potranno partecipare le persone che hanno sintomi che indicano un'infezione da Covid chi si trova attualmente in malattia per qualsiasi motivo, le persone risultate già positive al virus negli ultimi tre mesi così come chi è in quarantina o in isolamento fiduciario. Esclusi anche i bambini sotto i sei anni, coloro che seguono regolarmente il test per motivi professionali e persone ricoverate nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, comprese le case di riposo pubbliche e private. I tempi di attesa per la risposta saranno brevi poiché il risultato verrà comunicato in maniera anonima entro 15 minuti. Gli eventuali positivi saranno poi sottoposti al tampone molecolare. E domani mattina nella postazione della palestra Venturini, componenti della giunta comunale di Fano, sindaco seri compreso, si sottoporranno al tampone rapido e ci saremo anche noi per realizzare un servizio televisivo che poi trasmetteremo nel telegiornale di domani sera. Questa mattina invece ci siamo recati all'interno di uno dei punti di stoccaggio dei vaccini, si trova a Fossombrone ed è il deposito dal quale partono le fiale per le vaccinazioni nella provincia di Pesero Urbino. Guardate. Trasportati in un furgone scortato dalla stradale, le fiale di vaccino arrivano nel centro di smistamento provinciale a Fossombrone. Da qui luogo sicuro per la conservazione ripartono per le strutture dell'Asur e dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Ad illustrarci le modalità è il dottor Celestino Bufarini, responsabile della farmacia ospedaliera dell'area Vasta 1. Al momento della consegna arriva questo pacco direttamente dalla Pfizer. È un pacco particolare che permette un trasporto a meno 80 per più giorni. È un pacco particolare perché ha un GPS, quindi una tracciatura. Quando arriva qui in farmacia noi dobbiamo controllare sia la corretta temperatura e sia l'avvenuto ricevimento e c'è un sistema di controllo da remoto di questa confezione, di questo pacco. Durante le consegne, ci spiega il farmacista, la temperatura deve essere invece tra i due e gli otto gradi. Stessa cosa per la conservazione nei cinque giorni successivi. Dopo il primo rifornimento del 30 dicembre scorso, sono arrivati altre 195 fiale per un totale di 390. Lunedì o martedì potrebbe arrivare un'altra fornitura, ma la farmacia viene avvisata in genere soltanto con un giorno o qualche ora di anticipo. In questo sito i vaccini vengono conservati in congelatore a meno 80. Da qui partono, vengono scongelati e partono poi per i punti di somministrazione. che in questo momento sono gli ospedali Marche Nord, l'ospedale di Urbino e l'ospedale qui di Fossombrone. A breve si aggiungeranno le strutture private, le RSA di tutta l'area vasta. E proprio stamattina c'è stata una di queste procedure, 13 le fiale scongelate per Urbino e 12 per Fossombrone. Le vaccinazioni saranno nel pomeriggio, cominceranno alle 14, noi verso le 9 della mattina tiriamo fuori le fiale e le mettiamo in frigorifero tra 2 e 8 gradi, in modo che alle 14 siano pronte per essere somministrate. Con ogni fiala quanti vaccini potrebbero venire? Dovrebbero essere preparati 5 dosi con ogni fiala. È noto, e questo è stato anche autorizzato dall'AIFA, che è possibile estrarre ulteriori dosi, una sesta e qualche volta anche una settima. E quindi è chiaro che c'è una quantità nominale di ipotetici vaccinanti, ma in realtà se ne riescono a vaccinare in ogni seduta qualcuno in più. E le Marche hanno chiesto un aumento della fornitura dei vaccini per poter avviare una campagna di vaccinazione di massa utilizzando la propria struttura e organizzazione sanitaria già impegnata nello screening su tutto il territorio regionale. Lo rende noto l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, riferendo ai contenuti della conferenza Stato-Regioni che si è tenuta ieri. Come Regione abbiamo anche sollecitato la possibilità di vaccinare insegnanti e studenti subito dopo la prima fase che è riservata al personale sanitario, per consentire la ripresa dell'attività didattica in presenza e nella massima sicurezza. Saltamartini ha poi riferito che il commissario Arcuri ha assicurato con il Bando Nazionale Aperto l'assunzione di medici e infermieri da destinare alle Marche entro la fine di gennaio per la campagna di vaccinazione in corso. E rimane alto il numero di decessi legati al Covid. Nelle Marche nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 15 persone, di cui 9 residenti nella provincia di Pesero Urbino. Le vittime, di età compresa, tra i 70 e i 92 anni, avevano patologie pregresse. Nell'ultima giornata si registra un calo di tamponi di positivi. I nuovi contagi sono 346, di cui 24 nella provincia pesarese. Negli ospedali della Regione, invece, sale ancora il numero di ricoveri, ad oggi 590. Il lieve aumento sia i pazienti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. Manifestazione pacifica oggi di albergatori e ristoratori che si sono dati appuntamento davanti al Comune di Pesero per chiedere al Sindaco di farsi portavoce della situazione drammatica che stanno vivendo. C'era per noi Angelica Panzieri. Si sono presentati in massa circa 50 tra ristoratori e albergatori. Questa mattina si sono fatti trovare in Comune, ad insaputa del Sindaco Matteo Ricci. L'obiettivo era quello di poter incontrare il primo cittadino per chiedergli di farsi portavoce in Regione al Governo della drammatica situazione che stanno vivendo da mesi. Tutto questo è insostenibile, ha detto uno dei ristoratori presenti. Siamo stati lasciati soli dal Governo, noi continuiamo a pagare gli affitti, tasse e tributi pur essendo chiusi. Se non ci sono i ristori per tutti, ci facciano riaprire e lavorare. Con loro il segretario provinciale di Confcommercio Davide Ippaso che ha spiegato le ragioni dell'incontro. Far capire che non ce la facciamo più. Purtroppo cosa succede? Succede che oggi per esempio siamo gialli e domani siamo gialli, ma più della metà dei ristoranti non riapre perché non è in grado di poter riaprire. Il Governo è lontano anni luce da quelle che sono le necessità degli operatori. Siamo stati sempre stati dichiarati untori, abbiamo attivato spendendo migliaia di euro per attivare i protocolli Covid. Nell'ultima parte dell'anno il Presidente del Consiglio Conte aveva detto che ci avrebbe salvato il Natale. Il Natale non è andato perché ci hanno chiuso e in questo momento le attività sono con l'acqua alla gola. Molti dei ristoratori ci stanno dicendo che non ce la faranno. E allora siamo venuti qui per far capire che vogliamo e che venga garantito l'articolo della Costituzione nel quale dichiara che alla base della Costituzione italiana c'è il diritto al lavoro. Stiamo qui a chiedere di andare giù a Roma, perché loro possono andare giù a Roma, di andare giù dai nostri politici romani e dire di fare basta. La pandemia esiste, sì, ma esiste per tutti e non siamo noi la causa della pandemia. Bilancio drammatico anche per il turismo provinciale che durante le feste natalizi ha perso circa 40.000 presenze senza ottenere alcun ristoro, come ha ricordato lo stesso Presidente degli albergatori Fabrizio Oliva. Gli alberghi annuali oramai sono chiusi da qualche mese. Noi non abbiamo un codice a teco che non ci permette di lavorare, ma non lavoriamo perché non c'è gente. Non ci sono eventi, non ci sono congressi e non c'è più il turismo del business. Quindi siamo costretti a stare chiusi. E peraltro in questo decreto del ristoro di Natale noi siamo stati esclusi. Questo è un grave errore che ha fatto lo Stato. Gli affitti, le bollette, la mancanza di capare perché la gente in questa fase non prenota e quindi gli alberghi sono messi veramente molto male assieme ai tour operator. Ad ascoltare le richieste degli operatori l'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci che si è detta disposta ad accompagnarli in regione per fare da portavoce alle loro richieste. Ho fatto presente loro tutto il lavoro fatto dal comune di Pesaro per cercare di aiutare, come abbiamo già spiegato, riguardo anche agli spazi e le zone ZTL che abbiamo fatto diventare gratuite. Anche le lettere che abbiamo mandato in regione, la lettera che abbiamo mandato anche ultimamente ad ottobre dove chiedevamo ristoro e aiuto concreto a tutte queste attività e di richiederlo in modo celere. Continueremo a fare il nostro dovere, nelle possibilità che ha un comune, come ho sempre detto, dove possiamo noi interveniamo. Io sono anche ben disposta insieme a tutti loro a muoverci, sono assessore del comune di Pesaro quindi voglio il bene di queste attività e andare a chiedere e spingere la regione ad aiutare tutte queste attività in grosse difficoltà. Domani mattina gli stessi albergatori e ristoratori saranno ricevuti nuovamente in comune dal sindaco Matteo Ricci. E durante il periodo di festività natalizie di fine anno e dell'epifania le forze dell'ordine hanno controllato più di 4.500 persone in provincia di Pesaro Rubino per il rispetto delle norme anticontagio. 86 sono le violazioni, mentre 7 gli illeciti contestati ai titolari di esercizi commerciali a fronte di 1.600 attività controllate. Oggi invece la prefettura ha adottato le prime 100 ordinanze in giunzione di pagamento nei confronti dei trasgressori a cui faranno seguito gli ulteriori provvedimenti. E a Fano invece l'amministrazione comunale ha pensato ad un bando per aiutare le attività economiche in crisi a causa della pandemia. L'amministrazione comunale di Fano tende la mano in aiuto a tutte le attività che hanno avuto un calo di fatturato maggiore dell'80% nel 2020 rispetto al 2019 a causa della pandemia. Si aprirà domani, venerdì 8 gennaio, il bando che prevede la destinazione di un bonus di 1.000 euro pensato come supporto alle aziende in difficoltà e che rimarrà aperto fino al 31 gennaio. Riteniamo che questo sia un bel segnale da parte della nostra amministrazione perché questo supporto verrà dato con i fondi nostri, con i fondi del Comune di Fano non essendo al nostro Comune arrivando aiuti specifici da parte del Governo, da parte della Regione Marche. Questa manovra si inserisce nel solco di una strada già intrapresa dalla Comune di Fano nel 2020 come uno dei tanti aiuti economici che si rifanno proprio al nostro bilancio, alle nostre risorse di bilancio sia per le attività produttive che alle famiglie. In questo caso specifico andiamo a istituire un fondo nel bilancio 2021 per quelle attività produttive che non sono state raggiunte da nessun tipo di aiuto né nostro, né regionale, né nazionale e che sono rimaste un po' indietro e che hanno diritto anche loro di essere aiutate. Quindi possiamo dire che questa è un'anticipazione delle scelte del bilancio di previsione del 2021 che stiamo andando a definire e che chiuderemo nei prossimi giorni. Per partecipare ovviamente basterà inviare una PEC al Comune di Fano con l'evidenza di tutte le caratteristiche richieste dal bando. E ancora cronaca, incidente mortale sul lavoro. Questa mattina la stazione ferroviaria di Iesi, un operaio napoletano di 55 anni è stato travolto e ucciso mentre stava lavorando in prossimità del binario 4. La vittima stava eseguendo dei lavori di le styling per conto di RFI. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo si trovasse sui binari caduto o comunque chino mentre lavorava quando è stato travolto da un escavatore su rotaie. Il mezzo era condotto da un altro addetto della stessa ditta che non si è accorto della presenza del collega a pochi metri. Forse a causa dell'altezza della cabina di guida il cantiere è stato posto sotto sequestro. E adesso torniamo a Fano, cambiamo argomento. A Fano perché parte l'operazione Waterfront il concorso nazionale e internazionale di idee che punta alla riqualificazione di tutto il lungomare i particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Al via l'operazione Waterfront il concorso internazionale di idee lanciato dall'amministrazione comunale il cui bando è stato pubblicato lo scorso 28 dicembre 2020 e per cui la giunta ha stanziato 100.000 euro. Il concorso si chiuderà il 14 maggio e dentro la fine dell'estate sarà giudicato il premio ai vincitori. Per lo stesso bando, ha spiegato il vice sindaco Cristian Fanesi ci saranno due classifiche, una per ogni ambito individuato ovvero il Waterfront Urbano che comprende Lido e Sassonia con il coinvolgimento del centro storico e del porto e Waterfront Torrette Ponte Sasso con riferimento alla parte sud della città. Ai primi classificati verrà consegnata la cifra di 15.000 euro ai secondi di 9.500 ed infine 6.500 euro ai terzi. Vorremmo che ci dessero un focus più attento a queste due zone e abbiamo pensato di destinare a chi vincerà questi due concorsi di idee per queste due aree, per questi due ambiti anche l'incarico di progettazione in maniera tale che il Comune di Fano ha già previsto di poter finanziare questi lavori destinando 2 milioni e mezzo di euro per questa parte più centrale quella più urbana che si sviluppa appunto intorno al porto e un milione e mezzo per la parte sud diciamo Torrette Ponte Sasso quindi sono risorsi importanti sicuramente si riesce a fare tante opere però ecco vorremmo inquadrarle in un contesto più ampio. Per quanto riguarda l'area urbana ha continuato Fanesi si punta alla valorizzazione della connessione tra lungomare, porto e centro mentre per la parte sud del Metauro si mira a favorire il turismo e si rendono prioritari gli elementi legati alla permeabilità della costa e alla relazione tra stabilimenti balneari e le strutture dei camping. L'operazione del waterfront ha poi commentato il sindaco di Fano Massimo Seri è estremamente importante ed è un pilastro di questo mandato oltre che una grande occasione per Fano. La cosa importante poi di questo concorso sono quei concorsi di idee veri nel senso che chi vince non prenderà soltanto il riconoscimento per aver vinto ma realizzerà i progetti esecutivi e questa è la differenza come è avvenuta col parco urbano. Quindi è uno strumento straordinariamente attuale ed è una grande opportunità. È uscito il bando per avere questi progetti di riqualificazione con l'obiettivo di partire col primo stralcio sia a nord che a sud del Metauro e cogliere questa occasione proprio per rilanciare ancora di più la nostra città. Riceve insulti su Facebook occhiene il risarcimento da anni e con quei soldi acquista un gioco speciale per una bimba disabile. È il bel gesto che ha compiuto l'assessore di Pesaro Enzo Belloni che questa mattina ci ha raccontato l'epilogo della vicenda. Un anno fa un leone da tastiera aveva usato Facebook per insultare l'assessore Enzo Belloni offendendo la memoria del padre scomparso. L'epilogo della vicenda è arrivato soltanto ora. Dopo aver chiesto il risarcimento danni per quelle offese l'assessore è riuscito ad ottenere qualcosa di buono. Con l'importo ricevuto pari a 2.912 euro Belloni ha acquistato una girella per una bambina disabile che entro febbraio sarà posizionata in un parco vicino a casa sua nel quartiere di Soria. Io dico che su Facebook si può scrivere molto ma non si può scrivere tutto e ho deciso senza fare tanto rumore senza andare sui giornali senza scrivere o spiatellare le 4 a 20 di procedere per i vie legali e di fare una denuncia. Ovviamente la cifra non mi interessava non sono ricco, non divento ricco con qualche milione di euro in più non mi interessava gestirla per me o comprarci un motorino, una macchina o andarci in vacanza ma ho pensato che poteva essere utile per chi è meno fortunato di noi. Qualche mese fa una mamma che si è trasferita a Pesaro da poco aveva chiesto se era possibile mettere un gioco in un parco giochi a Soria allora ho detto visto che io ho un procedimento aperto se avrò il risarcimento chiederò la cifra esatta al millesimo per acquistare questo gioco e appunto 2912 euro nascono da 2008 più IVA al 4% e appena ho incassato l'assegno ho proceduto all'ordine del gioco il gioco è già in ordine pensiamo che tra la metà di gennaio la fine di gennaio lo installeremo devo dire che anche l'avvocato che ha seguito la mia parte quindi Gerardo Saragoni Lunghi ha messo a disposizione il suo compenso quanto percepito per integrare quell'area lì e quindi per dare una piccola risposta alla famiglia devo dire che la Sofi e sua mamma sono state molto contente di questo gesto è una cosa che mi fa particolarmente piacere conoscendo anche quel mondo lì anche direttamente e adesso apriamo l'album di Fano TV perché questa sera facciamo gli auguri a Irma Del Bianco di Terre Roveresche che ieri ha festeggiato 102 anni Irma che ha 4 figli 10 pronipoti e una donna lucida in gamba con la passione della pasta fatta in casa la vediamo tra poco in un video con le mani in pasta eccola qua mentre prepara le tagliatelle tantissimi auguri da tutti i familiari e ovviamente dallo Stato nei Fano TV e con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale vi ricordo però il numero che è dedicato alle vostre segnalazioni 338 49 68 250 eccolo qua lo vedete in sovrimpressione l'informazione torna invece domani mattina in diretta alle 7 con il nostro direttore Marco Ferri che leggerà insieme a voi i quotidiani arrivederci grazie a tutti grazie a tutti